Non ce l'ha fatta Franco Della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo era arrivato in condizioni critiche al Cardarelli ed è deceduto nella notte. La Salma si trova attualmente al policlinico dove sarà eseguita l'autopsia. Nei giorni scorsi a Marano, la città in cui viveva Della Corte, era andata in scena una fiaccolata di solidarietà promossa dai familiari. In lutto il mondo delle guardie giureate. Piangiamo l'ennesima vittima in servizio, spiega Giuseppe Alviti. Ci stringiamo attorno alla famiglia Della Corte in questo momento di estremo dolore. Secondo una prima ricostruzione, Della Corte venne sorpreso alle spalle mentre si trovava tra il cancello d'ingresso della stazione e l'atrio della stazione e venne colpito violentemente alla testa con un oggetto metallico, forse una spranga di ferro. Della Corte venne soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e trasportato subito al pronto soccorso del Cardarelli. Venne subito sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, poi i giorni di agonia. Ciro Maione, amministratore unico dell'ANM, condannò da subito la feroce aggressione stando vicino ai familiari e mostrando la massima solidarietà per quanto accaduto. Intanto si prega affinché vengano subito individuati gli aggressori o l'aggressione Della Corte. Le indagini vanno avanti e anche il sindaco De Magistris è vicino ai familiari.